La situazione economica in provincia di Frosinone continua ad essere difficile. La Caritas, malgrado gli sforzi, riesce a rispondere solo ad una parte dei bisogni delle persone in difficoltà. Il lavoro delle parrocchie però continua ad essere di un valore straordinario. La crisi non è ancora terminata, nel senso che quello che viviamo dal 2008 lo stiamo vivendo ancora oggi. Forse alcune persone sono riuscite a trovare un lavoro, hanno ripreso un cammino di vita normale. Molte altre sono ancora in difficoltà. Allora il sostegno concreto che le parrocchie danno, che la Caritas dà quotidianamente, serve proprio a dare una mano a chi non ce la fa, a chi ancora è in un cono d'ombra della disoccupazione, del lavoro sottopagato, del lavoro nero o di un lavoro che non c'è mai stato. Ecco, questa è la vicinanza che noi vogliamo dare con la raccolta alimentare. La povertà si acuisce dove i rapporti sono deteriorati e non si basano su quelle che sono le relazioni tradizionali di buon vicinato, anche in ciociaria. In genere nei centri più grandi, dove ci sono più famiglie senza grandi relazioni di parentela o di amicizia o famiglie giunte recentemente e che quindi non hanno degli altri legami, la solitudine acuisce la povertà. Quando ci sono delle relazioni o tradizionali o comunque di vicinato, soprattutto nei centri più piccoli, si riesce a vivere meglio, anche con poco. Ecco, nella città come Frosinone, nei centri più grandi, invece, quando una famiglia è sola, rischia di rimanere veramente sola. Nelle raccolte per i terremotati, la provincia di Frosinone ha dimostrato grande altruismo ed amore, ma bisogna pensare anche a chi vive nella casa a fianco alla nostra e molte volte soffre senza far sentire il proprio grido di dolore. È vero che abbiamo raccolto tanto nell'ultime settimane, soprattutto per i terremotati. Tanti sono stati molto generosi. Però a volte, forse ad Amatrice e nei comuni vicini, hanno ricevuto più doni di quelli che erano necessari. Allora, lo sforzo di oggi è quello di essere vicino ai nostri amici, ai nostri compagni ciociari, come siamo stati vicini ai terremotati di Amatrice. Il bisogno c'è anche accanto alla nostra porta, quindi non volgiamo lo sguardo da un'altra parte, ma volgiamo lo sguardo alla famiglia che è accanto a noi e che vive una difficoltà.